La rottura nel PD si intitola in codesta maniera il pregiato servizio proposto ieri 7 aprile 2016 a Leggiene a firma di Enrico Lucci. Il buon Enrico Lucci per l'appunto va a intervistare molti esponenti del Partito Democratico per far capire che non devono assolutamente ridigare. Il buon Enrico Lucci per l'appunto ci mette del suo nel far mimare, nel far finta di incazzarsi per fare in modo che nessun personaggio che fa parte del Partito Democratico si agrabbisi tra virgolette incazzi. Tuttavia Gianni Cooper nonostante il consiglio di Enrico Lucci avrebbe detto la sua durante la riunione del famoso Partito Democratico. Vi ringrazio per l'ascolto il buon Enrico Lucci in questo servizio, come anche in molti dei suoi servizi, ma non in tutti, ha la capacità di essere sarcastico quanto basta, ha la capacità di essere divertente, ha la capacità di far venire fuori quella sua venata e pizzicata ironia che è presente in molti, ma non in tutti, i suoi servizi. Insomma, è un Enrico Lucci che sa far divertire e divertire gli altri. Grazie cari aiutenti di YouTube, iscrivetevi, commentate, un saluto a voi tutti.